Ciao a tutti ragazzi sono Luque e benvenuti ritrovati nella Captive Perché Luque è Luque 4317 Stavo dicendo Estheticraft Ma siamo nella Captive ragazzi e oltretutto Dovevamo aprire questa chest Eccola Cioè non c'è un cacchio dentro C'è tutto sto casino ragazzi Vi mostro cosa c'è dentro E non c'è un cacchio Ma veramente? Cioè c'era una mappa deficiente oltretutto Che non mi servirà per adesso E basta Bene Ragazzi ho deciso di continuare a scendere Per cercare qualcosa di figo Mi serve dell'argilla per fare questi altri colori Perlomeno il giallo Il giallo si potrebbe già iniziare a fare Ma mi serve argilla E per prendere l'argilla devo scavare più che posso Per trovarla Ma io continuerei a scendere Continuiamo a scendere Il problema è che sto facendo delle scale un po' strane Dovrei mantenere una linea Sto facendo avanti e indietro Avanti e indietro c'è mezzo Dovrei fare tutto il contorno a scendere Delle scale tipo Boh non lo so Però se ho culo Dovrei trovare l'argilla Subito Sento altri mob O sbaglio Puce dell'acqua La canna alla zucchero Un po' troppo lontana Sapete che No non posso Stavo pensando Se potreste rompere con l'arco E poi con l'acqua scivola di qua Invece no Con l'arco la canna alla zucchero Non si rompe Visto che non so dove andare Devo fare delle scale Allora dove sono le scale per salire Sono di qua E io di qua farei le scale per scendere A questo punto Sento altri mob E la cosa figa Che non ho torce Porca bacca Verano torce Le posso fare Pirletta Le posso fare Ok ragazzi Ho scavato un sacco E sono giunto Ad un qualcosa Porca bacca 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 No lo scheletro no E te pareva Lo scheletro Deve crepare Perfetto Fantastico Fantastico Che sia morto lo scheletro E gg fuori Oh la spada Dai 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 Droppate qualcosa di figo Ma quanto ce n'è Ma sono morto Sono quasi morto Certo che fare ste cose Senza avere Eh porca bacca Un'armatura Ecco Senza un'armatura Io non posso fare queste cose Aizza la mia roba Eeeh Ma guardate la riprenda la roba Non c'ho anche una spada Si E come li picchia questi E come Che culo Ho preso la spada Ma quanti sono Ma scherzate Dai Dai fammi il colpo Ad aria Fammi il colpo ad aria Morto uno Morto un altro No Bravo il colpo ad aria Bravissimo Bravissimo Così Così Vai fuori gli altri due Mamma mia Fuori un altro Manca un Si lui mi uccido Mi incazzo Oh Ti ho droppato Nulla Devo riprendermi tutta la mia roba E ce n'è un altro qui Aspettiamo che la spada si ricarica Porca bacca Ok 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 Rimettiamoci questo Ragazzi ci siamo Veramente ci siamo Dai Forza Allora Questo lo mettiamo qua Fantastico Allora Mangiamo un panino E ci siamo ragazzi Dovremmo starci Delle ossa Molto importanti Una torcia Ehi vabbè Si ciao Pierino Che vuoi tu Non ho capito se c'è un dungeon C'è uno spawner E dai no Si sta riempiendo ancora Aspetta 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 Ok Allora facciamo così Via sta torcia Mettiamo la torcia qua Mettiamo un blocco là E rompiamo qua Dovrebbe essere tutto calcolato Infatti Ragazzi come è morto Come è morto quello zombie No seriamente Devo tornare a casa Perché secondo voi Ho terminato Porca ciabatta La spada Ho terminato la spada Ma qua non possiamo fare le scale un po' più semplici No E a questo punto ragazzi Io sarei propensi a farmi la spada di ferro Perché no Due ferri Prendiamo un po' di legna E spada di ferro fu E mo raga Non ci sono cazzi per cavedani Cavedani E barbabietoli Quei cosi li Dai andiamo Andiamo Forza forza Certo qua ce n'è uno Io aprirei addirittura Tanto abbiamo E chi cacchio è questo Tutto sporco Che cacchio di Che cosa hai fatto Perché sei tutto così sporco Forza muori Muori Forza forza Voglio aprire Vai Rischiamocela ancora Andiamo Ora con la spada di ferro Guadagniamo un colpo più o meno Vai forza 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 Ok la troccia abbiamo messa Ok ho trovato C'è il dungeon Ok Permesso Bravo Bravo Ok 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 Trovato Trovato Eccolo qua Ma c'è anche un creeper Perché c'è un creeper La dentro No Spada Spada Sono un coglione Si 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 Sono un coglione Si 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 È scoppiato tutto Si 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 Questo ragazzi Perché Io sono abituato Al vecchio stile di combattimento Ossia Spammare il colpo di spada Invece no Invece no Ora mi sarà esploso il mondo Tutto mi sarà esploso Tutto Quel creeper mi ha fatto danni Credo Potrebbe avermi fatto danni Presanti No Aspetta un po' Vuoi dirmi che ho tutta la mia roba La mia spada Ho tutta la mia roba Yes Yes ragazzi Più o meno Ho un sacco di roba Più o meno Allora una torcia qua Una torcia Zombie non mi interessa Una torcia qua Ok Killiamo lo zombie Ragazzi Ed entriamo A distruggere lo spawn Ma forse ce lo teniamo Io lo riempirei di torce E ce lo teniamo Buono Due chest Del carbone Ottima scelta Perché facciamo delle torce Che mi erano completamente esaurite Ok Voila Abbiamo Mamma rocarman È pronta roba che non mi serve A parte i semi d'anguria Forse i semi d'anguria È l'unica cosa interessante No Che ne dite Che ne dite ragazzi Però ho visto Un sacco di ferro qui Che è ottimo Per potermi fare Almeno un principio Di armatura di ferro Guarda quanto ferro Fantastico 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 Altro ferro Altra corsa E ho visto qua Dei fiori Ok Raccogliamoli E però Non so se continuerò a scendere O Più o meno scavare tutto qui Perché ragazzi Scava Guardate qua Guardate qua L'argillola L'argillola Dammenne un bel po' Dammenne un bel po' Quanti me ne ha dati Otto Che me ne faccio Oh Altra Altra argilla Signori Mamma mia Grazie 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 Davvero Grazie Questa volta Devo davvero Davvero Ringraziarti Proviamo a allargare un po' il buco Ma credo non ce ne sia più Perché c'è proprio A blocchi di tanto in tanto Ragazzi Sette blocchi A casa Non ho l'altra Per cui potrei andare a casa A vedere Che riesco a fare Una chest Una chest E forse neanche con il bug Riesco Perché la piazzo qua No Per cui ricordiamoci ragazzi Qua c'è una chest A raccogliere Che ci fa uno scheletro qua sopra Ma scherziamo Ma perché non riesco a prenderlo Muori Oh caspichia Oh caspichia E notte E vabbè c'è pure uno zombie qua Ok morto lo zombie ragazzi Mi ha droppato una patata Lo zombie mi ha droppato Una patata Molto importante Allora Metto a cuocere il ferro E Mi serve una zappa Che ho qua Fantastico Eccola qua Una bella zappetta Che facciamo qua E piazziamo la nostra prima Bella patata Ragazzi la patata Mamma mia La patata Basta questi alberi Le metto qua Allora sono salito Per cuocere Facciamo magari un'altra fornace Riusciamo Yes Guarda qua Quanta cobblestone abbiamo Allora Quest'altra fornace La mettiamo di fianco E voglio cuocere Questa roba qua Ora non avendo legna Non possiamo Però Possiamo fare così Fantastico Ne abbiamo già due Belle bruciate Me ne serve solamente uno E prendiamo Prendiamo ragazzi Il colorante giallo Questa volta Il colorante giallo Così andiamo A fare Quella gialla Volendo potremmo Piantare anche I semi di zucca Di zucca o di anguria Non mi ricordo Però facciamo così Qua E lo piantiamo qua Aspetta ne abbiamo tre Ne abbiamo Uno due tre Fantastico Uno due e tre Ok Abbiamo del ferro Col ferro Aspettiamo l'ultimo Possiamo fare Un principio di armatura O degli attrezzi Io farei Ascia e pala Ascia e pala Yes Io farei ascia E pala E tutta questa roba La buttiamo Eccoli qua Otto Che poi volendo ragazzi Mi avanzano Quattro pezzi di ferro Possiamo fare Almeno le scarpe Che ne dite Oh eccole qua E giù c'è l'altro ferro Comunque da raccogliere Ragazzi Possiamo tranquillamente Fare il nostro monumento Pam 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 Quello giallo Mamma mia Oh Allora Un due tre Questi non ci servono Ragazzi Il monumento giallo Lo andiamo ad attivare Forza Vediamo un po' che ci da Dove è il monumento giallo Eccolo qua Guardate Uno Due E tanti like Pam 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 Non so se Creando monumenti Ci da solamente Il L'areworld in alto O ci Allarga anche Di una Di una striscia Tutto l'ambaradamo Questo dove lo vuoi Ragazzi Ecco qua Guardate Pam pam Monumento giallo Uh C'è una tigre qua Un gabbiano Ragazzi Monumento giallo Appunto Ci da tutto il drop Il giallo Una pecora gialla Un coso giallo E delle frecce gialle Frecce spettrale Ok Adesso tutte queste frecce Lasciamo qua Poi vedremo che fare Abbiamo queste Abbiamo queste Perfetto Abbiamo la nostra pecora Possiamo farci il letto Volendo Rubiamoli Ah non ho più ferro Vado giù Prendo il ferro Certo che è dura Scendere fino qua Ragazzi Io mi ricordo Io mi ricordo di aver visto Il ferro Ma l'ho preso tutto Allora L'ho preso tutto Niente Ho provato a scavare Qua e là Ma non c'è nulla Io direi ragazzi Allora qua sono le scale Per Eccole qua Io continuerai ad andare giù A questo punto Oh 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 Ho trovato acqua Interessante Acqua Vorrei scendere Là c'è della clay Là c'è della clay ragazzi Là c'è della clay Io scendo Ok Sembra tutto calmo C'è un botto di clay ragazzi C'è un botto di clay Guarda qua Guarda qua Guarda quanta clay c'è ragazzi Certo che se mi rischio Singolare e plurale Guarda quanta clay c'è ragazzi Guardate quanta clay c'è ragazzi Comunque c'è un botto di clay davvero Ok In questo Pirtuso ragazzi C'era un botto di clay Ora andiamo a vedere Di cercare di girare qua Giriamo così E continuiamo a scendere No Però di qua c'è acqua Allora direi di scendere qua Proviamo a cambiare piano O chiudiamo l'acqua Porca bacca Non so che fare Intanto c'è del carbone Allora ne approfitterei per Prendermi il carbone E continuare così A sto punto Perché sento altri zombie Ferro finalmente Eppure lo zombie Lo sento qua in alto Non lo sento in basso Perché Lo sento qua in alto Guardate quando lo sento Forte qua sopra Ecco Qua c'è un dungeon Ma non è quello di prima E infatti è quello di prima Ma che cacchio Ma va a cagare Era spawnato uno zombie Così a random Ma va a cagare va Ma va a cagare Vediamo se avendo fatto il monumento Si è allargato di uno No È come prima Avete visto Per cui Creando Abilitando i monumenti Non si va più di tanto Cioè non si allarga Eppure sento altri scheletri zombie Secondo me un altro strato Qualche altro dungeon Ci sarà Oh 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 Ragazzi Ho trovato qualcosa Una cesta nascosta Ma che cacchio Wow Wow Della clay Fantastico Due biscotti Tante frecce Ma non ho un arco ancora Allora Allora Ragioniamo Qua io sento qualcosa C'era Ecco 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 Fantastico Ragazzi All'inebot È uscito sparando Avete visto Eh che cacchio Eh che cacchio Cos'è uno zombie È uno scheletro strano Ok Fantastico Allora Ho messo 18 torce E va bene Dobbiamo scendere e rischiare Allora Questo qua non c'ha le frecce È una cosa ottima Però è abbastanza veloce Porca bacca È veloce E muori Ok Quella cos'è Uno zombie Devo allargare Perché Voilà Voilà C'era della gravel Porca ciabatta Morto anche lui E vediamo un po' Che riusciamo a fare Intorciamo Intorciamo Che è un altro di questi Morto anche lui E dobbiamo togliere questa roba Perché dà molto molto fastidio Ho visto una cesta E si scende ancora Fantastico Allora Non dovrebbe riuscire a salire Infatti Così è Ma c'è una caverna Questa caverna Ragazzi è infinita Ecco Lui c'ha anche frecce Lui è OP Lui è OP Dobbiamo fargli Ai 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 Prima che lui Ce lo faccia A noi Dai No Quando si mette lontano È un figlio di P Figlio È un figlio di P Figlio Ok Torcia Questa cesta Riuscire a vedere sotto Porca ciabatta Ok Facciamo le scale Ma non c'era nulla Ma non c'era nulla Qua c'è una cesta È ok Devo impararmi ragazzi Che le ceste che riesco a prendere Devo toglierle Se no mi confondo poi Allora Andiamo un po' qua che c'è Niente Ma non mi ricordo che c'era una cesta Ragazzi Eccola qua Eccola qua Eccola qua C'era davvero una cesta Una bussola E delle cose Degli utensili Già Già usati Una bussola E degli utensili Già usati Noi ci pappiamo Tutto questo carbone E davanti agli occhi ragazzi C'è volo la clay E non la vedevo Cioè non l'avevo vista Ok Altra clay Fantastico Altra clay Però io sento Un botto di mob E non riesco a capire Da dove provengano Perché sembra addirittura Da qua C'è Da qui in mezzo qui Cioè non da sotto Ma da in mezzo Niente a questo punto Allora da sotto Qua c'è una cesta Che logicamente Non dicevo mai a prendere Devo continuare a scendere A questo punto Eh Ne sento tanti eh Ne sento tanti Eccolo là Eccolo qua Eh vabbè C'è anche un creeper C'è anche un creeper Allora Vediamo se riusciamo A fare così Dovremmo essere Se non scoppia Siamo Oh Se non scoppia Siamo messi bene noi Ok No Dai Dai Colpo d'aria Che beccolo Anche il creeper Fantastico Ma è ancora vivo Dai Creeper Qua arco e frecce Ragazzi farebbero la differenza Arco e frecce Servirebbero Buongiorno È qui la festa Se scoppia il creeper Muoiono tutti Vogliamo vedere il creeper kamikaze Forza Scoppia creeper Scoppia creeper Scoppia creeper Buono Il creeper kamikaze Se riuscissi a mettere Una cacchio di torcia Ok Giusto per vedere La sotto Che c'è Morto anche lui Riusciamo a farci Delle scale Riusciamo a farci Delle scale Yes E vabbè Lì c'è troppa gente Credo Credo ci sia troppa gente Lì Fantastico Se io riuscissi Era a tirarli Ok Perché quello che fa paura Ragazzi è lo scheletro Eccolo che arriva Eccolo che arriva Eccolo qua Eccolo qua Nella trappola Ottimo Facciamo così così Gli blocchiamo Aia Aia Ho fatto una cagata Ho fatto una cagata Ho fatto una cagata Ok è morto 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 Fantastico Mangiamo una Un biscotto Credo sia l'ultimo ragazzi L'ho tirato a me Vediamo un po' Se riusciamo a killarlo E aia Ok Deve sbagliare Il colpo lui Aia Aia Se questo mi prende muoio Se questo mi prende muoio Forza Ridammi i cuori Ridammi i cuori Ok è morto Ragazzi dovrebbe essere Tutto pulito eh Dovrebbe Dico dovrebbe Perché dovrebbe Ok Ok Si pulito C'è una ceste lì Che non riuscirò mai a prendere C'è una caverna infinita Del ferro E poi Della clay Da quest'altra parte C'è altro ferro Un'altra caverna E io mi Ciappo il ferro Una ceste Ragazzi c'era una ceste Sotto il ferro Ottimo Ottimo Ecco qua C'è qualcosa C'è anche della lava Un'altra ceste Attenzione Attenzione Rubiamo la cestra qua Oh mio dio Arcella Argilla Già bruciata Un disco Oh mio dio E delle pepite d'oro Qua dentro Bistecchie E argilla E pepite d'oro Fantastico ragazzi E cose Delle torte di zucca Fantastico Ragazzi ho aperto E c'è della lava Della lava Che potrebbe Tornarci utile eh Potrebbe davvero Tornarci utile Allora Io ho terminato il piccone Per cui direi di tornare a casa Urgentemente Urgentemente Perché io adesso Non riesco manco più a salirci Qua sopra Eh Ah ok Ok Dovrei avercela fatta Col cacchio Col cacchio Ah però c'è il piccone Quello che ho consumato Meno male Allora Mi impappo anche Tutta questa argilla Cerco di tornare a casa Ragazzi 8 secoli per salire Ma ce l'ho fatta Dovrei essere Sana e salvo Ah nevica Un po' di fresco Meno male Allora Abbiamo un bel po' di ferro Un bel po' 7 Ma sono ottimi 7 ferri Ottimi Mettiamo via tutto Abbiamo 2 stack Ragazzi ripeto 2 stack Quasi di clay Siamo avantissimo Con la clay Il problema È ora trovare I colori giusti Porca ciabatta Allora 8 di questi Dovrebbero cuocere Uno stack Ok No 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 Ma che faccio Ma che faccio Ma sono imbranato Ok Era così Porca ciabatta Che ho combinato No Che faccio Ho bruciato uno di questi E vabbè amen Abbiamo anche un sacco d'oro Io vorrei vedere ragazzi Invece Qualche achievement Anzi Lo vedremo Nel prossimo episodio Ragazzi Grazie a tutti per avermi seguito Un bacione Un abbraccio Ci vediamo nel prossimo episodio Se trovo del pesce Devo domesticare Questa farfallina Un bacione Un abbraccio Da Luke è tutto Ciao a tutti